Eccoci tornati di un nuovo studio sempre con il dottor Grassetti per parlare della diastasi addominale come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Ecco iniziamo subito con Sabrina Di Loreto che ci chiede è vero che questo tipo di intervento è relativamente semplice con le nuove tecniche di chirurgia robotica? La chirurgia robotica nei pochi centri di eccellenza internazionali in cui viene praticata può migliorare e rendere di più facile esecuzione la tecnica laparoscopica. Poi abbiamo Giorgia Di Matelica che chiede nel caso della diastasi l'allontanamento dei muscoletti retti addominali può provocare la formazione di ernie umbilicali? Diciamo di no, diciamo invece che l'ernia umbilicale può concomitare a una diastasi dei muscoli retti addominali. Poi abbiamo Sara Di Ancona che chiede con la diastasi addominale gli esercizi fisici per irrobustire la muscolatura non danno risultati? Bisogna per forza intervenire con la chirurgia? Cara Sara non esiste mai in questo caso un intervento chirurgico obbligatorio e farlo per forza. Se tu riesci irrigidendo e contraendo la parete addominale a non avere i sintomi puoi tenere la tua diastasi, ok? Se invece nonostante questo i tuoi disturbi sono importanti allora possiamo fare intervento chirurgico. Un'altra cosa mi sento di dire. Quando noi siamo in piedi i nostri quadricipiti sono contratti tonicamente senza che noi ce ne accorgiamo perché se li rilassassimo noi caderemmo. Parimenti quando stiamo in piedi dovremmo tenere tonica la nostra parete addominale in modo tale che a un certo punto teniamo i muscoli tesi, lievemente contratti senza pensarci. In questa maniera rafforziamo la nostra parete. Bene dottore. Poi abbiamo Luigi di Macerata che dice ho letto che la diastasi addominale è addirittura una patologia e chiede ma che cosa consiste? Si è seguito la nostra trasmissione sicuramente l'hai capito brevemente è un allontanamento dei muscoli retti addominali perché la linea alba perde di consistenza come una cerniera lampo dei pantaloni e l'intestino tende a verniare davanti con una serie di disturbi dal mal di schiena al senso di crampo fit dopo pranzo a segni cioè si vede sotto la pelle nei pazienti magri proprio che ti si muove l'intestino anche se stai fermo al mare e sei anche imbarzato. Poi abbiamo Antonella di Ancona che chiede la presenza di diastasi addominale può causare altre patologie? Sì diciamo che può essere un fattore di rischio soprattutto per il dolore lombare certo che dolore lombare è dovuto a tante cause non è che risolvendo la diastasi per forza ti passa dolore lombare se magari ti pieghi male se sollevi pesi se hai una scoliosi però sicuramente te la migliora tante pazienti fanno un colpo di tosse e perdono l'urina quando hanno la diastasi il senso di aerofagia il di gonfiore addominale spesso viene non sempre però spesso viene risolto da questo tipo di intervento. Poi abbiamo Martina di Ancona che chiede questo tipo di intervento può avere controindicazioni? Tutti gli interventi possono avere controindicazioni se effettuati nel paziente che non deve essere operato cioè il paziente che ha problemi di di coagulazione il paziente che ha problemi di diabete di fumo di obesità è meglio non operarlo o procrastinare l'intervento quando si saranno risolti questi tipi di problemi. Poi abbiamo Vincenzo di Chiara Valle che chiede non sottoporsi all'intervento per questo tipo di problema che cosa può portare? L'intervento è curativo e guaritivo non è urgente quindi se noi lo procrastiniamo nel tempo i sintomi di cui abbiamo poc'anzi parlato possono peggiorare e questo può determinarsi. Nei casi più gravi può succedere che tutta questa ernia dell'intestino può dare complicanze importanti specie se si associa ad altre ernie della fascia addominale e soprattutto è più difficile la riparazione quando il caso è più disperato. Poi abbiamo Simone di Ancona che chiede questo tipo di intervento si può fare con l'assistenza sanitaria nazionale? Beh abbiamo già detto si può fare con l'assistenza sanitaria nazionale mettendosi in lista operatoria e attendendo il proprio turno sapendo che non è tra le priorità attualmente purtroppo del servizio sanitario nazionale che deve curare tumori, traumi e patologie più a grave termine. Poi abbiamo Giulia di Portodascoli che chiede come capire quando è il caso di fare l'intervento? Ma si capisce quando fare l'intervento io dico sempre lo vedi te lo senti no? È come capire se sei innamorato di una persona quando la vedi lo senti la stessa cosa quando i tuoi sintomi ti danneggiano fortemente il tuo stile di vita perché ti vergogna a farti vedere con la pancia in quella maniera perché dopo i pasti cominci a star male perché non riesci più a camminare in stazione retta sei te che vieni a chiedere di essere operata di solito funziona sempre così. Bene dottore poi abbiamo Anna Di Fermo che dice ho subito due tagli cesarei e dopo 15 anni la pancia si è sformata formando una specie di sporgenza verso il basso e chiede mi consiglia l'intervento? Non posso consigliarti l'intervento devi venire a visita e lo valutiamo insieme non è detto che tu abbia la diastasi potresti avere semplicemente una descenza della cicatrice chirurgica in profondità. Bene poi abbiamo Marta Diancona che chiede a questo tipo di intervento si può sottoporre chiunque? Che complicanze ci potrebbero essere? Si può sottoporre ovviamente chiunque purché sia operabile le complicanze le abbiamo in parte già dette cioè complicanze sia generiche di tutti gli interventi chirurgici come il sanguinamento, la trombosi venosa profonda, l'infezione sia specifiche di questo tipo di intervento che è l'addominoplastica ovvero il sieroma, l'ematoma tardivo, la necrosi della pelle, la descenza della ferita e una cicatrizzazione inadeguata ovvero per difetto cicatrici avvallate oppure per eccesso cicatrici pertrofiche o cheloidee. Bene poi abbiamo Alessandra Diancona che chiede dopo aver subito l'intervento ingrassando c'è il rischio che il problema si ripresenti? Direi che il fatto che uno aumenti di peso non porta alla recidiva della diastasi porta invece a un ritenzionamento della pelle che pertanto ti va a cadere proprio sopra la cicatrice per cui esteticamente peggiori. Bene noi siamo giunti al termine della trasmissione. A conclusione dottore quale messaggio vogliamo dare alle mamme che hanno una diastasi? Non disperatevi la patologia non è grave, l'evoluzione è lenta seppur progressiva. L'intervento oggi è sicuro, specie se effettuato nelle donne giovani e garantisce risultati sia funzionali perché risolve questa patologia sia estetici consentendo di tornare al mare d'estate con una pancia piatta e dal punto di vista psicologico senza sentirsi dover dire congratulazioni per essere rimasta di nuovo incinta. Bene noi salutiamo il dottor Grassetti e lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. IBD Unit per le malattie infiammatorie e croniche intestinali. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima alla messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande chiamando il numero 071 75 74 372 oppure inviare un'email a onertv-la-libero.it Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su Youtube e tutti gli aggiornamenti ritrovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti!